ola e benvenuto in questa pillola di evoluzione una rubrica all'interno della pagina spasso con lo scrittore pensi ripetutamente al tuo passato a ieri oppure ripetutamente a quello che dovresti fare domani vedi se vuoi vivere davvero è importante che tu ti focalizzi sul comportamento e sulle azioni di oggi e sai qual è il motivo tu puoi interagire e modificare solamente quello che ti accade in tempo reale una persona che è depressa pensa continuamente si concentra esclusivamente col passato confrontandosi col passato una persona che è molto ansiosa invece anticipa continuamente situazioni di un futuro che ancora non c'è invece un entusiasta è colui che abita l'oggi concentrati su quanto la vita ti offre adesso in diretta e relazionati con questo interagisci con quello che accade in diretta in tempo reale non ha importanza se quello che fai non è perfetto la sicurezza ti verrà sicuramente dalla tua abilità di sentire quello che vuoi e la fiducia crescerà si rafforzerà si potenzierà quando tu sentirai quello che vuoi qualsiasi cosa accada tu hai la facoltà di scegliere oggi adesso di decidere adesso e di muoverti di conseguenza se sei veramente concentrato nel tuo presente e il presente il luogo nel quale tu respiri il luogo nel quale il tuo cuore batte metti le mani qui sul tuo cuore e senti sta battendo e sta battendo adesso e questa giornata proprio questa giornata quella che hai adesso la giornata che hai a tua disposizione accoglila accogli gli eventi e cogli le opportunità che questa giornata ti offre non iniziare a pensare a ieri o a cosa accadrà domani il tuo futuro lo costruisci oggi iniziando proprio da oggi a fare azione con amore con passione e con entusiasmo lo sai molto bene che il presente è un dono infatti si chiama presente goditelo utilizzalo e fallo come fa un bambino lui sì che sa vivere davvero buona vita goditelo utilizzalo e fallo come fa un bambino lui sì che sa vivere davvero buona